Numero 15, Orlandi Gianni, del Godog e Agility Team dalla Toscana, 6, 22 e 20, i prossimi 3 concorrenti a partire. Ok, terzo ostacolo, eccoci sulla spalizzata, buona la salita, bene anche la discesa, il allargo passato in donne, via veloci verso il Cissò, richiamo subito, eccoci sul Cissò, benissimo fino a questo momento il percorso di questo binomio. Eccoci ancora nella parte destra, quasi vicini ora al muro per poi andare all'ingresso in slalom, tremano ma non cadono le tegole, abbiamo ancora tre ostacoli che possono portare in testa questo binomio, vediamo zona buona di salita, controlliamo buona anche la discesa, il colzonetto va in testa, pensa.